Signor Sindaco, ha radunato consiglieri e giunta per una riunione di maggioranza sul futuro di Sanremo? È un momento che secondo me non è mai stato fatto in questi cinque anni ma è un risultato molto positivo. Nesta mattina alle 9.30 si parla delle varie tematiche, a breve si presenteranno le linee programmatiche del Consiglio Comunale, dunque si traccerà il percorso di questi quattro anni di amministrazione, è stato giusto fare una riunione un pochino più approfondita, non di fretta all'interno del Comune ma vedersi qua e parlare anche di problematiche al nostro interno, legate proprio tra consiglieri e assessorio, anche col Sindaco, capire dove dobbiamo migliorare ma soprattutto quali sono le priorità dei prossimi cinque anni. Questo è un lavoro intenso, è un lavoro che ci sono tre ore di discussione, proseguiranno nel pomeriggio, ma quello che poi a mio avviso risulta è che c'è la voglia di lavorare, c'è un gruppo che è veramente molto coeso, una bella amministrazione, questo mi fa molto piacere, credo che questo sia il dato più positivo della giornata, il fatto che ci siamo dati delle priorità ma allo stesso tempo sempre questo gruppo si sta formando, sta diventando sempre più forte ma soprattutto forte non tanto come per quello che abbiamo già dimostrato con i numeri ma forte in senso di legame. Noi abbiamo definito il buon ritiro più che altro perché qua a San Romolo addirittura è una zona dove pure i telefonini prendono un po' meno, potevate farlo in Comune invece avete deciso di farlo qua, le motivazioni? L'idea è quella di farne altri questi incontri e di andare nelle varie zone, siamo partiti da San Romolo anche perché qua in effetti i telefonini prendono male all'interno della stanza, dunque non siamo disturbati e ma al di là di questo c'è la volontà di proseguire questi incontri, di andare anche in altre zone della città, in altre periferie e in altre frazioni, proprio perché anche per farci vedere, per conoscere, ma soprattutto per prenderci il tempo per noi al di fuori di quella ordinarietà delle cose che a volte non c'è questa serenità per affrontare le cose. Quali gli argomenti che avete e che affrontate e che affronterete anche nel corso del pomeriggio? Gli argomenti sono tutti, a 360 gradi si è parlato lungamente di sociale, di lavori pubblici, legati ai grandi progetti, del centro storico, del verde, del fatto assolutamente di ampliare tutta la piantumificazione di alberi, ma allo stesso tempo anche di maggiori controlli, anche perché quello che oggi abbiamo, per dire, in via Pazio di Semeria sono stati piantati dei lecci, ma sono dei lecci, a mio avviso, molto esili, non è quello che vogliamo, una maggior pura del verde in alcune zone, perciò piccoli argomenti, grandi argomenti come il porto vecchio, il portosole e tutta l'area dell'extrazione. Gli argomenti ci sono tantissimi, ma sicuramente sono stati fatti una priorità e soprattutto anche darci un metodo di lavoro per accelerare tutte queste cose, perché come bene ogni volta se bisogna coinvolgere tutta la giornata diventa anche complessi, perciò creare tanti piccoli gruppi di lavoro. Per terminare, due forse gli argomenti che premono più in questo momento. Si parla molto di lavori alla condotta fognaria, di lavori all'acquedotto e ovviamente uno degli argomenti principi è anche il porto vecchio. Lo affrontate questo problema? C'è qualche novità in merito? No, abbiamo affrontato, si è ampiamente discusso, ma soprattutto anche il discorso dell'alienazione di Casa Serena, che per molti in effetti posso capire che sembrerebbe una come uno si vendono sempre quei gioielli della nostra città. In realtà è un atto quasi dovuto proprio per andare ad affrontare, ad avere le risorse per portare avanti tutte queste cose, perché oggi sotto servizi siamo in una questione disastrosa, servono delle risorse e soprattutto anche sulla messa in sicurezza del territorio e su altre cose. Questa alienazione di Casa Serena comunque deve essere fatta mediante determinati criteri, mantenendo le quote, le rette invariate e soprattutto tutti i servizi all'interno. Dunque la stiamo valutando in maniera non tanto di cercare di creare dei disagi all'interno, non questi dobbiamo rimantenere tutti alla stessa maniera, ma soprattutto perché c'è una esigenza di città di dover investire tramite altre importanti opere, che oggi non ci sono risorse, ma queste opere sicuramente poi portano un beneficio a tantissime altre attività agli stessi cittadini. Un incontro che non è mai stato fatto, innanzitutto come è andata? Questo incontro ha permesso a noi consiglieri e ovviamente a tutti gli assessori, compreso il sindaco Biancheri, di poterci rapportare veramente al di fuori di quello che è il comune. Ed è stata veramente una giornata che ci ha resi partecipi, esponendo ognuno di noi dei validi obiettivi. Gli argomenti principali che sono stati trattati? I principali sono stati la spazzatura, che è un argomento che tocca tanta gente, soprattutto noi, e altri argomenti come la viabilità, le scuole, il verde pubblico e tutti gli argomenti che comunque sono stati portati prima in campagna elettorale che noi vorremmo giustamente proseguire e portare finalmente a termine, come le grandi opere, eccetera. Ancora quattro anni e mezzo di governo da parte della giunta Biancheri. Sì, questa, come dicevamo, è una prima occasione, però il sindaco ci ha confermato che ce ne saranno altre. Sì, è stata una prima occasione, nel pomeriggio ne avremo un'altra parte e c'è stato un confronto aperto e condiviso sulle linee di mandato di questi quattro anni e mezzo e quindi su cosa sarà poi la Sanremo del domani. Sanremo del domani, bell'argomento. Come la vedete la Sanremo del domani? La vediamo, vorremmo una Sanremo più moderna, con più infrastrutture, una Sanremo capace di accogliere i turisti nella maniera migliore, quindi il progetto del porto, che è quello principale che tutti cerchiamo di ottenere, porterà in quella direzione. Vorremmo una Sanremo anche più ordinata, con regole più certe, non vorremmo vedere una Sanremo nel caos, una viabilità più scorrevole, ecco, una Sanremo migliore, vorremmo. Senza nulla a togliere agli altri, ma è obiettivamente la realtà, sei un consigliere giovane, sei il più giovane. Cosa vuole la gioventù di Sanremo dal sindaco bianchiere e dalla sua giunta? Beh, certo, anzitutto una tematica molto importante quando si parla di giovani è sempre il lavoro, nel senso che le grandi opere che sono in progetto sono un'opportunità di investimento, un'opportunità anche di lavoro e questo deve essere fondamentale. Poi, certo, in ottica futura, oggi vorremmo migliorare un po' le possibilità che ci sono legate allo studio, dalla biblioteca, alla possibilità di aree studio, secondo me qualcosa nei prossimi anni si può fare. Presidente, una riunione, come dicevamo poco fa anche con alcuni consiglieri, mai fatta, soprattutto in una zona molto particolare, molto bella, molto affascinante come San Romolo, ma il sindaco ha confermato che ce ne saranno molte altre, sono importanti secondo lei? Assolutamente sì, direi una buona mattinata, adesso ci aspetterà anche un buon pomeriggio, un colloquio tra i vari assessori e consiglieri, penso che sia stata veramente un'ottima iniziativa e ritengo che nel futuro possano essercene sicuramente delle altre. Il sindaco ha avuto questa buona idea di parlare di amministrazione, di quegli argomenti che poi tutti i giorni affrontiamo come amministratori e soprattutto tutto quello che i cittadini oggi ci richiedono. Mentre non si è parlato assolutamente di regionali? Assolutamente no, almeno fino a questo momento non si è parlato di regionali ma di amministrazione, quello che secondo me è giusto quando ci si vede come in questa circostanza e soprattutto in una realtà come San Romolo.